Ben trovati a questa nuova puntata di A Tutto Ponente che ci vede in compagnia dello SPI CGL. Parleremo infatti oggi di argomenti molto importanti e molto attuali. Lo facciamo con due ospiti che vi presento subito. Abbiamo con noi Paola Repetto, segretario SPI CGL Liguria, ben trovata, e Gabriella Rosafio, segretario SPI CGL Imperia. Benvenuta. Allora, ripeto, partiamo da uno studio che avete fatto, un'analisi che va proprio ad approfondire l'aspetto delle pensioni di questo sistema previdenziale italiano raffrontandolo anche con il resto dell'Europa. È così? Infatti, noi abbiamo pensato che parlare solo del nostro sistema previdenziale fosse un po' limitato e abbiamo deciso così di mettere invece a confronto alcuni paesi europei che naturalmente siano abbastanza affini all'Italia perché ovviamente se andiamo a prendere paesi di nuovo ingresso nell'Unione Europea come, che ne so, la Romania o la Bulgaria allora la situazione è completamente differente. Ma invece Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna sono tutti paesi che hanno più o meno una popolazione paragonabile a quella dell'Italia e anche condizioni socio-economiche comparabili, simili. E come siamo rispetto a loro? Dunque, allora, noi abbiamo un sistema previdenziale che, senz'altro, dopo la riforma Fornero, è il meno generoso d'Europa perché è un sistema contributivo puro, nel senso che, per esempio, in Italia i fondi pensione che invece sono molto diffusi in Germania, ma anche in Gran Bretagna e anche in Francia, hanno un impatto molto limitato, parliamo solo del 7% sul totale. Quindi, trattandosi di un sistema, come dicevo, contributivo puro, una persona, un lavoratore o una lavoratrice, al termine della propria vita lavorativa, viene a prendere esclusivamente i contributi che ha versato. Contributi che ha versato, che oltretutto, dipendono anche molto dal tipo di vita lavorativa che questa persona ha avuto. Mi spiego. Secondo l'Ocse, l'Organizzazione Internazionale per l'Economia e lo Sviluppo, per avere con il sistema contributivo una pensione che sia pari almeno al 75% dell'ultima retribuzione, bisogna lavorare ininterrottamente 40 anni con un salario dignitoso. Ora, purtroppo, questo in Italia non si dà, perché noi sappiamo che il mercato del lavoro italiano è uno dei più precari d'Europa. Se noi mettiamo a confronto diversi paesi europei, vediamo che le cause di interruzione del lavoro in Italia sono in prevalenza dovute a licenziamenti o conclusioni di contratti a termine. Quindi, noi abbiamo un mercato del lavoro molto precario, persone che entrano e escono dal mercato del lavoro, non abbiamo una rete di ammortizzatori sociali adeguata, quindi abbiamo molti periodi non lavorati che non sono coperti da contribuzione, abbiamo salari bassi e il risultato è che poi coloro che in un domani andranno in pensione avranno sicuramente delle pensioni molto basse. E quindi andiamo a sfatare un po' un luogo comune, quello secondo il quale l'Italia sarebbe un luogo dorato per quel che riguarda le pensioni, ma non è così. No, non è così, guardi, anche se noi prendiamo in esame le pensioni vigenti, quindi non le pensioni storiche, non le pensioni future, ma le pensioni storiche, noi vediamo che il reddito anno di un pensionato, il reddito anno medio naturalmente di un pensionato italiano è intorno ai 13 mila euro. 13 mila euro sono una pensione che sono nella media bassa dell'Europa, quindi per esempio abbiamo le pensioni del Belgio che sono intorno ai 17 mila euro medi l'anno, abbiamo le pensioni della Gran Bretagna che sono intorno ai 16 mila euro, quindi noi abbiamo un sistema pensionistico che ha pensioni, sì, mediamente non tremende, ma sicuramente non pensioni altissime, non l'idea dei pensionati che sguazzano nell'oro e si passano, non è così, non è proprio così. Certo, ci sono anche un esiguo gruppo di pensioni veramente alte, ma parliamo di una quota minima del montante pensionistico totale, se noi andiamo a vedere quant'è la pensione media mensile comprese le integrazioni al minimo, quindi comprese le pensioni molto basse e arriviamo a stento ai 1000 euro al mese. A gravare sono le tasse? Dunque, da un lato c'è sicuramente una imposizione fiscale che è una delle più alte d'Europa, i pensionati italiani pagano più del 21% di tasse, il che equivale, tanto per fare una cifra tonda, a circa 50 miliardi di euro l'anno di tasse che pagano i pensionati. Quindi, se noi consideriamo che il bilancio dell'Inps, complessivamente inteso, come vedete, il totale delle prestazioni istituzionali dell'Inps è di 303 miliardi di euro e le spese per le pensioni, 267 mila, 50 miliardi di euro sono un quinto del totale di quanto lo Stato spende per le pensioni. E le tasche sono diverse, ma il pantalone è lo stesso, nel senso che da una parte escono come pensioni e dall'altra rientrano come tasse, quindi diciamo così che fare il calcolo anche dell'impatto sul PIL della pensione lorda è abbastanza scorretto perché una quota di questa uscita si compensa immediatamente con l'entrata fiscale. Quindi, per esempio, in Gran Bretagna i pensionati non pagano tasse e di conseguenza hanno una condizione complessivamente più positiva rispetto a noi. Ben diversa. Ben diversa. Ma il nostro è un sistema iniquo? Dunque, il nostro è un sistema iniquo, non lo definirei, direi che è un sistema molto poco generoso, perché guardi, in Europa mediamente non c'è nessun paese che ha pensioni che dipendano solo dalla contribuzione. Quindi c'è da un lato la pensione che deriva dai contributi effettivamente versati, poi c'è una quota che in molti stati, per esempio, a carico della fiscalità generale. C'è una pensione di Stato che è uguale per tutti e che è a carico della fiscalità generale, a cui si somma la quota contributiva. In altri paesi magari non c'è la pensione di Stato, però c'è una quota significativa coperta dai fondi pensione. Diciamo, noi abbiamo fatto una forte innovazione per metterci in linea con l'Europa, però non abbiamo pensato a tutti quei contrappesi che servono a mantenere una relazione significativa tra la pensione e la retribuzione precedentemente percepita. Si rischia che una persona vada in pensione e da una situazione di modesto benessere cada in una situazione di miseria. Fra l'altro, non so se è il caso di parlarne subito, ma i pensionati sono stati vittime in questi anni di vero e proprio prelievo forzoso, perché nel 2012 e nel 2013 è stata bloccata la perequazione delle pensioni e questo è costato tantissimo ai pensionati, tantissimo. Un grande sacrificio. Un grande sacrificio, perché pensi solo che una pensione che avrebbe potuto essere intorno ai 1.800 euro rimane invece di poco superiore ai 1.500. Quindi c'è stata una perdita netta di circa 300 euro al mese. Quindi perdita di potere d'acquisto, perdita di competitività, perdita anche di disponibilità al consumo, perché chiaramente se diminuisce il reddito, poi magari una persona è meno portata a comprarsi che ne so, un paio di scarpe nuovo o andare al cinema. Anche perché se continuano a tartassarti, hai paura e tendi a risparmiare un po' di più e non metti in circolo la liquidità. È un circolo vizioso. È sicuramente un circolo vizioso, non solo, ma oltretutto in questo modo i pensionati sono sempre in ansia, perché non sanno mai che cosa gli può capitare da un momento all'altro. Insomma noi vorremmo rassicurarli un pochettino. Quindi anche il pensionato è un precario. A suo modo. A suo modo sì. Sono iniziative queste molto interessanti e importanti come questo studio, ma la SPI CGL ne fa poi molte. Per esempio ce ne sarà una a martedì 8 marzo in programma proprio qui ad Imperia, presso la sala multimediale della Camera di Commercio, dal titolo La donna e le donne e la medicina della differenza. Di cosa si parlerà? Nasce da un convegno che è stato organizzato l'anno scorso a Roma dal coordinamento Donne dello SPI, in cui si è affrontato alla problematica della medicina di genere, che non è soltanto genere femminile, ma è anche genere maschile, quindi dell'attenzione maggiore che si dovrebbe offrire sia ai maschi che alle femmine, in fatto di medicina. Le donne soprattutto sono un po', come dire, le vittime della situazione, perché non hanno mai avuto, non so, le medicine testate su di loro, ma usano medicine testate sul genere maschile. Quindi di riflesso poi ricevono queste medicine. Le bambine e i bambini forse dovrebbero avere medicine diverse, quindi già nell'infanzia, anzi. Che anzi sono nel periodo più delicato, più indifeso. dell'infanzia. Quindi è una problematica che da noi, così, ha cominciato ad essere trattata già da una ventina d'anni, ma molto molto alla lontana. Ci sono però delle regioni come la regione Veneto, la regione Piemonte, la regione Lombardia, la regione Toscana, insomma qualche altra regione, che ha già cominciato ad affrontare questa problematica. Sono un po' più avanti. Un po' più avanti, quantomeno dal punto di vista teorico. In alcune regioni hanno anche delle borse di studio per la ricerca. Quindi si comincia a parlarne. Anche noi vorremmo cominciare ad affrontare questa problematica, tanto che anche l'ASL ci ha dato, diciamo, un appoggio, perché verrà a questo incontro la dottoressa Badassarre, quindi una dottoressa dell'ASL, con la Daniela De Cinti, che è la responsabile del coordinamento donna e nazionale. Quindi praticamente il discorso sarebbe proprio che il corpo della donna risponde in maniera differente a quella dell'uomo. Certo. E poi anche perché noi vorremmo, anche come sindacato, affrontare questa problematica, perché potremmo essere utili dal punto di vista, quantomeno sociale, visto che conosciamo, abbiamo contatti con il territorio. Quindi anche la medicina dovrebbe fare i conti con la tenore di vita, con il grado di istruzione, con oggi anche con la situazione economica delle persone. Poi ogni individuo è diverso dall'altro. È diverso dall'altro. E bisognerebbe cominciare a pensarci. Tra l'altro c'è anche una pubblicazione su questo. Sì, una pubblicazione piuttosto interessante. La mostriamo? Sì. E qui dentro cosa troviamo? Un po'? Trova le relazioni che sono state tenute durante l'incontro a Roma. Romano. Sì. Quindi è un po' la base. È la base, sì. Su cui si partirà, non a caso, l'8 marzo se ne parla. L'8 marzo, perché, vabbè, diciamo che è la festa della donna, o quantomeno, è un momento in cui noi forse possiamo riflettere un attimo sulla nostra situazione, sul nostro viaggio. Ovviamente invitate tutte le donne, ma non solo. No, no, non solo le donne, anche gli uomini. Anche perché parlavamo dei bambini, per esempio. Quindi i genitori dovrebbero affrontare questa tematica in maniera... Sì. Non so, anche le istituzioni, perché gli assessori, i sindaci, insomma, cominciarono a ragionare per introdurre almeno nel bilancio, nel bilancio sociale, almeno, questo discorso. Poi, quando verrà attuato, non lo so, non abbiamo grandi speranze. Però se non se ne inizia a parlare, non verrà mai attuato. Certo. E beh, ricorderemo poi questo appuntamento anche durante i nostri telegiornali, nei prossimi giorni, per tornare alle pensioni e chiudere questo discorso, tutto questo serve anche per guardare al futuro, per guardare le pensioni del futuro. Certo, serve per guardare le pensioni del futuro e anche per fare delle proposte molto concrete, nel senso che denunciare i problemi naturalmente è molto importante, è molto importante anche sfatare alcuni miti. Per esempio, una delle ragioni per cui il sistema previdenziale italiano pesa sul PIL tanto più degli altri rispetto ai paesi europei consimili è che in Italia fanno parte del sistema previdenziale pubblico anche i lavoratori autonomi, quindi anche commercianti, artigiani e agricoltori. Negli altri paesi europei questo non accade. Io non dico che i lavoratori autonomi debbano uscire dal sistema previdenziale pubblico, ma sicuramente vanno scorporati quando si fa il calcolo del peso del sistema previdenziale sul PIL, perché è come mettere a paragone delle scatole che formalmente sono identiche ma che poi hanno contenuti completamente diversi. Di conseguenza io credo che questo studio ci serva a parlare con i pensionati, a parlare anche con i cittadini e le cittadine per capire che insomma i pensionati non sono proprio questi cattivoni responsabili della povertà del paese che vivono negli agi e nei lussi mentre gli altri soffrono e soprattutto per fare proposte per i giovani, perché naturalmente è evidente che a noi pensionati i giovani interessano moltissimo e ci interessano moltissimo non solo perché sono i nostri figli e i nostri nipoti, ma anche perché dal loro lavoro dipende il sistema previdenziale pubblico che è il sistema ripartizione. Le pensioni degli attuali pensionati sono pagate da quelli che lavorano oggi e quindi è tutto il nostro interesse che quelli che lavorano oggi stiano bene, abbiano dei lavori stabili, non precari e abbiano delle retribuzioni adeguate. Quindi noi facciamo alcuni suggerimenti, intanto suggeriamo che ciascuno abbia un suo monte pensione totalizzato al 100%, oggi come oggi per fare ricongiunzioni da un tipo di lavoro ad un altro si spendono un sacco di soldi e molto spesso non si ricongiungono i contributi versati perché non si hanno le risorse necessarie. Allora questa è una cosa che non va bene perché da tanti pulpiti ci dicono che cambiare lavoro è bello, che noia il posto fisso, bisogna essere liberi, avventurosi, imprenditori di se stessi, benissimo. Però poi quando qualcuno lo fa, in genere più per forza che per amore, si trova poi alla fine della sua carriera lavorativa che non riesce a ricongiungersi i contributi e ha una pensione da fame. Allora predicare bene, ma alzolare male non va. Allora quindi se voi volete che noi siamo liberi e avventurosi imprenditori di noi stessi, dateci gli strumenti per esserlo, senza poi dover soffrire la fame nella nostra vecchiaia. Poi diciamolo, meglio lo dico io, chi dice non cercate più il lavoro fisso, cambiate mentalità, lo dice chi invece ha una poltrona ben solida, altro che posto fisso. Come no? Dall'alto delle loro sicure e ben retribuito poltrone, mettiamolo così. Per chiudere una battuta, perché di solito i giovani dicono noi in pensione non ci andremo mai, sia perché c'è questa discontinuità lavorativa, sia perché vedono che i soldi arrivano allo Stato ma poi finiscono non si sa dove. Allora, la situazione è questa. Ad oggi il nostro sistema previdenziale è in equilibrio, soprattutto è in equilibrio il fondo dei lavoratori dipendenti, perché poi per esempio il fondo degli artigiani è in rosso, il fondo dei commercianti è in rosso, il fondo degli agricoltori è in rosso, il fondo dei dirigenti è in rosso, è in attivo il fondo dei parasubordinati e sono in rosso una serie di fondi speciali in cui si è realizzato un forte squilibrio tra entrate e uscite. Per esempio il fondo dei ferrovieri, dove c'è stata una grandiosa razionalizzazione, tantissimi sono usciti dal lavoro, sono andati in pensione, ma non sono stati rimpiazzati. Quindi chiaramente quel fondo è rosso, perché ci sono molti meno lavoratori di quanto non ci siano pensionati. Allora, detto ciò, ad oggi il fondo lavoratori dipendenti è in equilibrio. Che cosa deve succedere perché i giovani di domani abbiano una pensione non da fame? Intanto bisognerebbe che il nostro PIL incominciasse un pochettino a crescere, perché ovviamente se non c'è una ripresa, se non c'è un rilancio dell'economia, sarà difficile trovare lavori equi e retribuiti, naturalmente. È necessario che si rinnovino i contratti collettivi nazionali di lavoro, perché da quelli dipende la qualità delle retribuzioni e la qualità del lavoro. È necessario che vengano tolte di mezzo alcune forme di lavoro particolarmente precarie, come per esempio i voucher. I voucher sono uno scandalo, perché sono quattro soldi che spesso coprono il lavoro nero, che non vanno ad incrementare i fondi previdenziali e che si configurano come uno sfruttamento dei lavoratori. Quindi io credo che alcuni interventi si possano fare da subito. E credo che naturalmente i giovani debbano e possano andare in pensione, se però naturalmente si interverrà da un lato sulla riforma previdenziale e dall'altra sulla riforma del mercato del lavoro, in modo da renderli più generosi e più equi nei confronti delle nuove generazioni. Beh, devo dire che questo è stato un incontro molto interessante di oggi, perché abbiamo dato dei numeri, abbiamo parlato di prospettive future, abbiamo parlato di cose reali, concrete, che i nostri telespettatori toccano, ahimè, tutti i giorni, vista anche la difficoltà del momento. Volevo ricordare ancora in chiusura questo appuntamento, martedì 8 marzo, alla Camera di Commercio di Imperia, le donne e la medicina della differenza. Un argomento... 9.30. Alle ore 9.30 di mattina, un argomento un po' nuovo che molti non conoscono, che è quindi importante approfondire. Grazie veramente di essere state con noi ospiti e buon lavoro per le vostre attività nella CGL, nello SPI CGL. Grazie, grazie. Grazie al pubblico per il sempre cordiale ascolto. A tutto ponente torna la prossima settimana. Arrivederci.